E' stato incastrato da queste immagini immortalate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza e per lui è così scattata la denuncia. L'episodio risale alla notte dello scorso Natale, erano infatti circa le 20 dello scorso 25 dicembre, quando il ladro, un 37enne tunisino, si è introdotto all'interno dei locali adibiti a bar del circolo tennis Arezzo di San Clemente. Per riuscire ad entrare, ha divelto una porta sul retro. Il ride però è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'uomo con un cappellino all'interno dei locali. Nei filmati si vede il 37enne mettere completamente a soccuadro il bar, prendere il fondocassa, circa 20 euro, e darsi alla fuga. Poco dopo, grazie ad una segnalazione di un cittadino, gli agenti della polizia di stato lo hanno rintracciato poco lontano. Le immagini del sistema di videosorveglianza di PM allarmi infine hanno permesso l'identificazione dell'uomo che adesso dovrà rispondere di furto aggravato.